L'autunno nella provincia Pontino e Mite. I giorni sono più brevi ma è sempre piacevole rimanere all'aperto e godere di eventi. Escursioni e iniziative vari tipi. Come sempre in Latina e nella sua provincia. Per coloro che vogliono divertirsi in un originale modo e rilassati. C'è rovinato per la scelta. Se non hai già impegni. Ecco alcuni suggerimenti. Manifestazioni molti eventi di questo fine settimana che celebrano gli eccellenti prodotti locali. La sua storia è oltre. In sermoneta l'ormai tradizionale rieffetto della battaglia Lepanto. Mentre tra Valvisciolo e Bassiano c'è una corsa in auto storica. A Rocca Gorga un frutto di frutta simbolo dell'autunno con festival della fragola. Mentre in aprilia è celebrato il cibo su routing con cibo strada internazionale. Nello splendido giardino di Ilandriana. L'evento per gli amanti del florovivaismo si tiene autunno a Ilandriana. Visita guidata ci sono anche molte escursioni. Visite guidate. Passeggiate seminari per conoscere i luoghi di cultura. Musei. Giardini parchi. La passeggiata naturalistica mola della corte a fonda è programmata. Visite guidate sermononeta in occasione della rieffetto storico degli ultimi fine settimana di. Apertura del giardino della ninfa del giardino dei Ilandriana. Cultura e spettacoli dal vivo il festival letterario che leggiamo la città con la presentazione del. Libro. Ferossana Carturan Factory. Al castello baronale Maenza per tutti i fine settimana del mese di ottobre sarà possibile. Partecipare alla teatralizzazione delle storie dell'orrore nel terrorismo castello del. Esposizione molte mostre in corso nella nostra provincia. Tra queste che ricordiamo alla galleria Montiotto lo staff dell'artista americano Gabriel Madam. Alla Omniart Open Gallery lo staff di Marianna Scuderi. Cinema per gli amanti cinema sono previsti per questo fine settimana gli ultimi appuntamenti. Festival Cinema di Vision Corte. Mentre quelli Fond Film Festival continuano. Per tutti coloro che preferiscono godersi la visione di un bellissimo film nella magica atmosfera. Della sala cinematografica. Varie notizie e film stanno arrivando per tutti i gusti nella vasta. Programmazione delle sale pontine.